bentornati e bentornate qui su LR Channel dato che mi avete detto che i miei vlog vi piacciono tantissimo vloggo anche oggi sto andando a fare i capelli non vi farò vedere tutto quanto vi vorrei solo portare con me così facciamo quattro chiacchiere comunque se siete curiosi di vedere come sarà la mia giornata da qua in avanti in realtà serata perché sono già le quattro e mezza del pomeriggio ovviamente non vi rimane che guardare questo video ma prima vi chiedo un like di supporto iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di LR Channel a meno rimane che mandarmi un bacio e aspettarmi dopo la sigla da 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 daaa i Allora, vi racconto, in pratica stiamo mettendo gli extension, la Iergi, saluta Ergi, e voi l'avete già vista, chi mi segue su Instagram l'ha già vista nelle storie di Instagram perché l'altra sera abbiamo fatto un evento insieme, ho partecipato a un evento di L'Oreal dove praticamente ho conosciuto questa magnifica ragazza, tra l'altro l'altra sera eri fighissima, ma veramente troppo troppo bella, se riesco a recuperarle e a salvarle vi metto un po' di storie qua in sovraimpressione, così chi non le ha viste su Instagram le può vedere. Comunque adesso stiamo mettendo le extension e poi vabbè vi farò vedere il risultato finito perché così è pallosissimo, a dopo. Io con le extension faccio di tanto credi, codine, coda, coda di lato, trecce, chignon, il coso quello alto, la cofana, cioè di tutto veramente. Le extension veramente subiscono qualsiasi tipo di trattamento per elle. Questa raccina che devo fare stasera proprio bella, bellissima. Questa raccina che sarà più importante. fatta una stupenda un'altra ragazza io intanto faccio vedere da qua che bello sono tornati i miei capelli sembri come si dice la principessa di Aladino la principessa no Yasmin raga dovete vedere cosa sto vedendo io guardate che bella è bellissima è bellissima raga dobbiamo fare un applauso a Ellie a un applausione sono solo io adesso ve la facciamo vedere allora parlo io perché Ergie è timida comunque mi ha fatto un lavoro pazzesco che vi metto insomma qua faccio venire fuori la foto della treccia bellissima tipo Yasmin e poi vedrete insomma nei prossimi giorni vedrete i capelli meravigliosi e niente quindi il vlog lo chiudo qua praticamente vuoi dire qualcosa? buone feste ecco cosa dobbiamo dire buone feste buon Natale a tutti ci vediamo alla prossima se il video vi è piaciuto vi chiediamo di lasciare quanti? tanti tanti like di supporto iscrivetevi al canale soprattutto attivate la campanella delle notifiche così rimarrete sempre aggiornati sui video dell'Air Channel io e Ergie vi mandiamo un bacio e tantissimo ma tantissimo amore ciao ciao